salve a tutti signori io sono lorenzo e questo è il mio canale espertone benvenuti bene oggi vi porto questa smart band che ormai tutti conosciamo in questo caso è la xiaomi smart band siamo arrivati al numero 9 poche differenze dalla smart band 8 che aveva un po rivoluzionato il mercato perché è comunque una smart band pulifunzionale quindi possiamo mettere addirittura ci sono degli accessori da mettere sulle scarpe e quindi contare i passi ci sono dei braccialetti ci sono vari accessori che continuano ad esserci anche su questa smart band qui abbiamo un display amole da un pollice e 62 abbiamo tutto il frame in metallo una batteria che permette di fare fino a 21 giorni e poi abbiamo una una vibrazione molto particolare e ha un feedback veramente eccezionale bene poi abbiamo resistente comunque sempre all'acqua più di 100 sport se non sbaglio 150 e adesso andiamo a vedere il nostro prodotto apriamo un attimo la nostra confezione e vediamo cosa troviamo all'interno eccoci qua io l'ho voluta e super rapporto in questo colore azzurro bello pastello dopo sapete che ci sono vari accessori quindi andiamo a vedere dentro troviamo la confezione così eccola qua con l'adesivo davanti e vedete che qui il frame è tutto in questo metallo qua satinato e il cinturino in questo caso qua non è un lucido ma è un bell'azzurro molto molto carino ed eccola qua se volete vederla così spenta poi andremo ad accenderla bella sempre solito display da appunto da un pollice e 68 che dicevamo prima resistente all'acqua quindi potete andare anche a farvi la doccia potete andare in piscina tranquillamente basta non fare immersioni perché è 5 atmosfere ma comunque abbiamo il nostro meglio non fare immersioni insomma perché fin quando stiamo a filo d'acqua ok altrimenti poi potrebbero nascere dei problemi abbiamo il monitoraggio della della frequenza cardiaca 24 ore su 24 il monitoraggio del sonno poi abbiamo appunto questa vibrazione che è molto molto particolare e comunque dopo ve la faccio sentire adesso proviamo ad accenderlo per accenderlo solo la prima volta che in questo caso noi è la prima volta che lo accendiamo dobbiamo collegarlo a una presa usb che questo qua questo è il suo caricabatterie io adesso mi faccio aiutare a una power bank che ho qui collego la power bank un attimino eccoci qua accendiamo power bank batteria ne ha e lo mettiamo qui vedete dove c'è il magnete eccoci qua così lui si accende guardate display bello luminoso un bel display da 1200 nits quindi anche la luce del sole si vede molto molto bene adesso voglio farvi vedere come collegarlo direttamente al nostro cellulare si deve scaricare l'applicazione mi fitness che questo qua con questo simbolo qua adesso un attimo quella scarichiamo qua posso anche staccare perché intanto bastava solo accendere per la prima volta e adesso vi faccio vedere come installarla bene quando aprite l'applicazione mi si presenta questa pagina qua io adesso devo andare sul dispositivo faccio aggiungi dispositivo che questo qua gli diamo accetta accetta consenti ha già rilevato xiaomi smart band 9 quindi clicco ok e lui mi dice di creare un account che io ho già bene una volta fatto diciamo il nostro account mi viene fuori di associarlo quindi faccio associa premo anche qui sul tele sul loro orologio e lui si sta associando adesso faccio connesso e a posto facciamo fatto continua e tutte le impostazioni guardate che bel display che ha quindi qua ci spiega come usarlo vedete notifiche funzionalità eccetera poi seleziona le notifiche se voglio selezionare solo le notifiche che voglio io oppure io faccio tutte le notifiche e poi in caso vi regolate in base qui bisogna dargli sempre l'ok del consenso ok torniamo indietro imposta consenti per le chiamate in arriva vi arriva il messaggino che vi stanno chiamando imposta e ok qui dovete mettere la data di nascita io faccio più tardi dopo mettete voi quello che volete il sesso quello che volete l'altezza quella che volete il peso quello che volete voi cioè che avete che siete voi e poi qua c'è già subito un aggiornamento da fare adesso lui sta facendo la sincronia vedete che col movimento del polso adesso lo metto su per metterlo su sempre questo qua si passa di qua e questa è una delle cose che a me più di tanto non piacciono i cinturini preferisco sempre gli altri ed eccolo qua un bel display bello luminoso 1200 sono tanti anche adesso vedete la luce del sole comunque si vede molto bene poi i display potete gestirli da qua che ne avete quanti volete scegliete quello che vi piace di più e ce ne sono veramente tantissimi quindi quello che volete voi lo scegliete la batteria 74 per cento secondo me fate tranquillamente 20 giorni con questo telefono qua perché non avendo il gps integrato e quindi neanche non consuma poi abbiamo la solita comunque basta che andate a vedere anche magari la recensione del miotto è sempre la classica app mi fitness sempre ben fatta per il prezzo che viene questo orologio che ricordo sono poco più di 39 euro e 90 se non sbaglio al momento del lancio questo allora andiamo a vedere qua questo vedete come sono fatte statistiche allenamento attività frequenza cardiaca vitalità ossigenazione del sangue sonno stress meteo sveglia impostazioni ecco magari andiamo a vedere impostazioni modalità di corsa display bracciale display vibrazione ecco la vibrazione cioè standard forte oppure disattivata cioè è un bello è un vibrare non continuo ma accelera e diminuisce che non dà fastidio l'hanno studiata bene questa vibrazione qui poi torniamo indietro facendo così dal sinistra verso destra torniamo indietro e poi qua abbiamo altro che sono eventi attività respirazione quindi ci sono anche i cicli di respirazione cronometro musica trova il telefono orologio usare come comando per la fotocamera timer torcia e concentrazione volevo farvi vedere un attimo su allenamento guardate quanto ce ne sono bello comunque questo display qua proprio fino alla fine molto interessante bello bene che dire è la classica band di xiaomi che secondo me ha sempre un gran successo anche per chi non vuole avere proprio lo smartwatch grande vuole un braccialettino però tenere monitorato le tutte le statistiche di quanti passi ho fatto quanta energia consumato eccetera sì e la batteria dura anche tanto tanto tempo e sono sempre belli sono sempre validi e poi ci sono tanti tanti accessori e guardate la velocità di rilevamento del giro polso un bel prodotto lo consiglio anche perché per il prezzo che hanno sempre queste band che poi da 39 90 andranno 34 90 29 90 eccetera sono dei prodotti molto interessanti bene signori se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale che è sempre gratuito e attivate il tasto di notifiche grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti